Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto altri te-tots testati in quella che è stata la Weekend League di questa settimana, ossia Son, Cancelo e Sho. Tre giocatori che mi hanno sorpreso per aspetti differenti. Come al solito ci andiamo a fare prima un recap statistico, carta alla mano, e poi andiamo a vedere le clip che ho registrato direttamente in-game, senza perdere ulteriore tempo. Passiamo subito all'analisi del nostro primo giocatore, ovvero il coreano Son. 1,83m per lui, alto alto di work rates, 4 di skill e 5 di piede debole. Già qui vediamo che insomma il 5 di piede debole rimanda un po' a un meta di FIFA 20 piuttosto che quello di FIFA 21, però questo Son ha tutte le carte regola per poter dire la sua anche quest'anno. Difatti ha una velocità impressionante, ha delle statistiche di tiro veramente fenomenali con 98 di potenza e 96 di finalizzazione, ha un ottimo passaggio corto, un po' meno in lungo, 94 di agilità, 88 di equilibrio, 97 di reattività, che però sono parametri secondo me per quello che è stato il mio test un po' fake, perché è un giocatore che comunque ha un body type di un certo tipo, è alto 1,83, ha comunque un 70 di forza, quindi quei parametri lì sono comunque un pochino falsati secondo me, quindi non rendono effettivamente per quello che vediamo sulla carta. Son dove l'ho provato? L'ho provato sia nella posizione di esterno destro che nella posizione di attaccante, sia singolo che non attacco a due. Dove l'ho preferito? L'ho preferito nel ruolo di esterno, questo perché se messo sul suo piede forte, ovvero proprio il piede destro, sfrutta benissimo un grande speed boost, di fatti va benissimo via in velocità, prende tanto campo, soprattutto con le skill come il tunnel direzionale, ha un ottimo tiro, quindi quando arriva in area segna, soprattutto se si tratta di tiro a incrociare, che quest'anno è proprio la carta principale per un esterno destro che arriva all'interno dell'area di rigore, ha anche un buon tiro a giro sul piede debole, quindi quello è il ruolo dove l'ho preferito. Non mi è piaciuto e non mi è entusiasmato da punta perché non ha quell'agilità tipica che serve a un giocatore di quel tipo e non ha neanche le 5 skill che possono ovviare magari ad un'agilità non proprio eccelsa, così come avviene nel caso di Cristiano Ronaldo. Quindi promosso a pieni voti sonno, gli do un bel 8,5 così come avevo dato se non erro a Rashford, un po' altino il prezzo, però secondo me lì a sinistra è il miglior esterno in quella che è la Premier League ed è sicuramente uno dei migliori giocatori proprio all'interno di tutto il gioco in quel ruolo lì. Passiamo avanti e abbiamo Joao Cancelo in questa versione TOTS 91 che ha destato subito un po' di stupore, in quanto in caso di vittoria della Champions da parte del Manchester City la versione Road to the Final arriverebbe praticamente ad avere lo stesso overall e più o meno le stesse statistiche. Dove riceve un grandissimo boost questo Cancelo rispetto all'altra versione è nel tiro. Quindi qual è il mio risponso? L'aumento statistico c'è, secondo me si vede soprattutto quando Cancelo si ritrova a dover eseguire delle diagonali difensive e l'ho trovato anche un pelo più preciso negli interventi per quanto riguarda i contrasti. Però onestamente questa gran differenza tale da giustificare il prezzo non c'è, secondo me. Può valere la pena andare a prendere questo giocatore nel caso in cui avete come modulo il 4-3-1-2 quindi utilizzate tanto gli inserimenti da parte dei terzini e quindi quell'11 di tiro in più potrebbe tornarvi utile perché Cancelo potrebbe arrivare alla conclusione e impensierire anche sotto questo punto di vista le difese avversarie. Poi per quanto riguarda il resto è comunque un gran difensore, ha un'ottima velocità, ha degli ottimi passaggi fenomenali, in particolare i filtranti, è ottimamente reattivo, ha un buon equilibrio, una buona freddezza, controllo palla, eccetera, eccetera e anche un'ottimo 86 di aggressività che gli permette di attaccarsi bene all'uomo come vedremo successivamente. A concludere abbiamo Luke Shaw, 1,81m di giocatore, piede sinistro, normale, normale il walk rate. Qui già so quale sarà la domanda. Shaw, meglio dici io terzino come avviene quest'anno per ogni terzino? Bene, io l'ho provato in entrambi i ruoli e devo dirvi la verità l'ho preferito di più da terzino. Andiamo a vedere successivamente il perché. Il fastidio, tra virgolette, principale è il fatto che l'ho ritrovato un po' piccolino quando l'ho schierato al centro. Questo sicuramente. E inoltre mi è parso alle volte un pelino, un pelino incerto nei contrasti quando era in zona centrale. Invece per quanto riguarda il ruolo di terzino, porta bene il pallone, è anche agile sulla fascia nel destreggiarsi e poi servire i compagni, quindi mi è piaciuto. Di fatti è molto rapido, ha dei buoni passaggi, vedete che ha anche 85 di agilità come vi dicevo, ha delle gran stats difensive che gli permettono di fare belle diagonali, ha 87 di forza e 93 di aggressività. Quindi tutti i parametri che sono, diciamo, eccezionali per una carta che deve coprire comunque un ruolo importante come quello del terzino. Anche perché poi parliamoci chiaro, in Premier League e comunque nel gioco c'è una gran carenza di terzini sinistri, c'è solo Mendy e poi secondo me c'è questo show perché Teo Hernandez per me rende più da DC. Reguillon non è questo gran giocatore, vediamo poi se con i prossimi Toz avremo delle carte interessanti da poter andarci a spendere in questo ruolo. Quindi dopo aver fatto un primo cenno generale andiamo a contestualizzare insomma tutta questa serie di informazioni andando a vedere le clip che ho registrato e che ho preparato per voi. Andiamo a guardare in ordine, se non erro, prima Son, poi Cancelo e poi Show o prima Son, Show e poi Cancelo, comunque sicuramente il primo è Son. Son che come potete vedere in questa prima occasione è schierato da esterno e guardate qui come raccoglie e capitalizza perfettamente quello che vi dicevo in precedenza, ossia il tiro a incrociare. Qui vedete come prende bene campo, entra in area anche dal lato opposto, ossia dalla sinistra, con un tacco tacco e bravissimo a destreggiarsi all'interno dell'area di rigore, cambiare poi direzione e calciare sul primo palo. Vi assicuro questo una volta che era in area e calciava mi è capitato rarissimamente che andasse a sbagliare. Qui ancora una volta lo vediamo in azione al limite dell'area con questo tentativo di tunnel e tiro poi ad incrociare perfetto. Ma guardate qui quanto è ampio questo tunnel direzionale per andare a prendere campo perché c'era vicino James che però non è riuscito a intervenire perché Son con il movimento l'ha tagliato fuori. Qui ancora una volta guardate come prende bene campo col tunnel, sul secondo pallo si speedboosta bene e qui vediamo anche in azione quello che è il suo 5 di piede debole. Difatti col mancino mi è capitato veramente di segnare tanti gol e mai errori banali da parte sua. Ma in particolare lo speedboost sul secondo controllo dopo il tunnel è quello che mi ha impressionato tanto. Ancora una volta qui andiamo a analizzare le giocate da parte dei nostri giocatori. Qui vediamo all'opera invece mi sa show esatto con questa chiusura molto precisa. Stavolta posizionato in ruolo centrale. Qui ancora una volta un autoblock. Guardate come ha scildato bene la posizione di Cruif. Io ero lì a marcare, sembrava che in realtà qui mi aveva superato, però con un autoblock di mancino io senza schiacciare il tasto del contrasto sono riuscito comunque a intervenire. Qui quello che vi dicevo, guardate sulla fascia come prende bene velocità soprattutto con lo speedboost. E guardate poi come è rapido su se stesso a girarsi e poi a trovare il compagno. Quindi è questo il motivo per il quale io lo preferisco da terzino. Secondo me un giocatore del genere è un po' un peccato andarlo a utilizzare da difensore centrale. Qui lo stavo proprio utilizzando in questa posizione. Vediamo comunque ancora una chiusura pulita ai danni di Cruif. Ancora una volta qui addirittura un doppio intervento. Perché la prima volta non riesce a recuperare il pallone. Qui addirittura l'arbitro dice che commette fallo. Però in realtà la giocata era ottima. Andiamoci a vedere invece adesso il nostro Cancelo. Cancelo che anche qui può sorgere spontanea la domanda. Posso utilizzarlo da DC? La risposta per me è no. Nel senso che tanto di terzini da spostare DC. Soprattutto in premio ne abbiamo tanti. Abbiamo Vambissaka che mi ha stupito. Abbiamo James. Quindi due giocatori di tutto rispetto. Cancelo facciamogli fare il terzino. Voglio dire anche perché è un terzino veramente veramente forte. Guardate qui in questa situazione in cui il mio avversario lancia col filtrante di bala. Cancelo interviene perfettamente. Incolla il pallone. Alzo piede e rilancia la manovra. Quello che mi è piaciuto tanto di Cancelo è proprio la precisione e la pulizia degli interventi. Perché non solo riusciva a recuperare bene il pallone. Ma riusciva poi ad avere subito la disposibilità della sfera per poter alimentare la ripartenza. Quindi questo mi ha colpito tanto. Qui ci andiamo a vedere quest'altra manovra con Messi che va a dare filtrante verso il Sharawi. Cancelo che per un attimo sembra superato riesce ad allungarsi e a retropassare la palla verso Yashin. Qui ancora una volta palla filtrante di Viera A che vedete sembra aver in realtà superato Cancelo che però con un movimento fulminio va a frapporsi sulla linea di passaggio e di conseguenza interviene a sradicare il pallone dai piedi di Kuluseski. Quindi anche qui una bella giocata da parte di Cancelo. Cancelo che ancora una volta qui interviene. Guardate. Questo piccolo frame l'ho preso. Perché nel momento in cui io vado a selezionarlo Cancelo aveva già iniziato ad avvicinarsi al Kurzawa del mio avversario. E guardate quello che vi dicevo in precedenza. Il contrasto sì ma poi subito la palla disponibile. Guardate dopo il contrasto come la palla gli rimanga franco bollata sul piede e poi può andare subito a innescare la ripartenza dei suoi. Quindi per quanto riguarda questi tre giocatori secondo me abbiamo tre giocatori di assoluto livello. In particolare Son e Show visto che Cancelo vi ripeto c'è questo discorso relativo al doppione del Road to the Final. Son voto 8.5, Show gli do un bel 9 da terzino. Mi è piaciuto veramente tanto. Cancelo gli diamo un 8 giusto per il discorso qualità prezzo visto che c'è il Road to the Final. Però anche lui veramente un bel giocatore. Quindi raga fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti. Se li avete provati, se avete bene o male avuto lo stesso feeling. Vi ricordo che in descrizione trovate tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola. A me non resta altro che salutarvi e augurarvi una buona giornata. Un salutone da Riberoski. Ciao raga.